Nel Giove, ma che posto è mai questo? Stavo per poliziarmi al mio riposo dopo aver compiuto i miei riti e all'improvviso mi trovi, cos'è questa cosa e... Il sommo Giove mi ha inviato un messaggio dicendomi che per super tornare al mio temporum devo prima vincere una sfida ama Clash Royale, come si chiama? Per farlo devo utilizzare delle truppe che ai miei tempi potessero esserci, perciò io direi che posso iniziare con la mia sfida. Sto un po' scorrendo per vedere queste truppe, o Polkodeus o Giove in persona, direi che è il primo che posso mettere. Il secondo direi il Cavaliere, che voi ben sapete che ai miei tempi i Cavalieri erano molto diffusi. Poi Arcieri, direi che gli Arcieri sono fantastiche visto che ai miei tempi se non c'erano gli Arcieri eravamo nella cacca. Barbari, quelli che hanno sempre, sempre attaccato il mio villaggio, per depredare di tutte le risorse. Havamo visto prima il cimitero, che è il luogo dove sono custoditi i miei antenati, prima che dopo essere schiattati. Direi che delle Guardie sono fortissime, i maiali non me li ricordavo proprio così, però se forse sto caricando troppa roba. Mettiamo un cannone al posto delle Guardie che sono un po' troppo pesanti. E per ultimo io vedi un Tronco. Io ai miei tempi, sapete, io facevo il Falegname e il Troncom era quello con cui lavoravo, perché sennò morivo di fame. Prima apriamo la grande cesta di Giove e vediamo cosa ci troviamo all'interno. Monete, cose che al mercato erano essenziali. Lapide, quella dove c'è scritto il nome di mio padre. E dei Goblin Lanceri della Merdam. Devo vincere o comunque combattere delle sfide. Zeus sarà al mio fianco. Siamo pronti a battagliare e a rendere gloria al carissimo Zeus. Forse mettere i maiali e non mettere il boia, che il boia forse si potrebbe prendere il mio ritorno. È stata una scelta brutta. Prepariamoci. Siamo già nella cacca. Fino al collo. Io direi che è un cavaliere perfetto. Guardate per Giove come si muove con la mongolfiera. È troppo forte. Non credo di poterla contrastare con Zeus e basta. Ci vorrebbe qualcosa di più forte, ma io non ho niente di più forte. E c'è pure una macchina infernale. Potrebbe darmi parecchi problemi. A meno che non butto i miei avi sul campo. Io direi che i miei avi sono perfetti da buttare nel campo. Per contrastare la macchina infernale. Lui però me l'ha avvelenata tutte. Io come combatto senza i miei antenati. E erano tutti dei grandi guerrieri. Ale, la macchina infernale è andata giù. Combattiamo e rendiamo gloria al mio signore. Io direi che è un cavaliere perfetto per questa battaglia. Anche gli arcieri che dovete capire che quando io abitavo a Roma, dove volete che abitassi. Andavo d'accordo con gli arcieri perché erano la più grande fonte di difesa che io potessi avere. Lasciamo andare Zeus per Giove che qua. Se no siamo nella Brattam perché perdiamo delle lesioni. Che importante. Maiali faranno il devasto. Lo so già. Guardate che potenza. I maiali del re mi ricordo. Io gli davo da mangiare ogni giorno. Non che adesso invece facciamo qualcosa di diverso però. I barbari li ho sempre ritenuti dei pezzi di fango ma... Potrei credermi tranquillamente su quello che dico di loro. Però forse la macchina infernale è un po' meno da ricredersi. Io butterai i miei avi. Buttiamo i miei avi e vediamo di fermare... Un cazzo. Qua mi ho buttato del veleno. Uno stegone elettrico è ragionevolissimo qua. Possiamo continuare con l'attacco home. E forse butterai dei maiali perché se no siamo nella cacca un fino al collo. Sì siamo nella cacca un fino al collo. Abbiamo perso la prima battaglia ma non ci disperiamo. Possiamo fare di meglio. Come ho detto prima forse mettere i barbari non è stata una buona idea visto che sono stati palesemente schifo. Perciò metterei un boia che ai miei tempi i boia tagliavano le teste perché anche era il loro lavoro. Boia. E adesso diamo quella distruzione. Zeus subito in mano è un buon segno. È segno di vittoria, di pace e di prosperità. Porco Zeus qua c'è la strega che ci ha fatto un po' male. Io buttare subito un boia. Perché il boia è quello che taglia le teste. Anche perché se no che cazzo fa un boia? È fatto apposta. Io. E il boia ha tagliato le teste come giusto che sia. Adesso buttiamo un cavaliere. Vedete quanto sono forti ma io ero un cavaliere molto più forte di quello. E questo qua potrebbe diventare un piccolo problemino da arginare subito con un bel cannone. E pure le arcerine dietro. E dove siamo qui? A Roma? A Latina? Siamo qui per parlare il latinorum? Non credo. Io butterei... Io aspetterei. Perché sapete aspettare è sempre fonte di saggezza. Non so che cazzo l'abbia detto. Non penso che esista una situazione del genere. Forse me la sono inventata sul momento però... Ma io li del re! E i miei avi! E credo che un po' di male glielo possiamo fare con questo attacco. Non è vero. Non gli abbiamo fatto proprio niente. Non li abbiamo manco toccati. Vai boia! Semina distruzione. Subito tronco per fermare le arcieri. Perché se no le arcieri potrebbero fare parecchio male. Per il momento sono in vantaggio. Ma non dobbiamo disperarci. Cioè dobbiamo disperarci perché... Ma lui c'ha il donatore di cinghiali che ai miei tempi era molto forte. E infatti lo sapevo che l'avrebbe utilizzato. Perché l'hai preso per uno scemo. Tannone subito e fermiamo tutti. E l'abbiamo fermato. Ma... C'è il problema di fondo che i miei avi non riescono a colpire la torre. Tu stai insultando i miei avi? Questo è quello che stai facendo? Bene. Io butto un cavaliere che ti fotterà anche il cervello. No. Questo potrebbe diventare un piccolo problemino di fondo. Cannone subito e fermiamo un cazzo. Fermiamo. In compenso ci ha fatto male secca lui. Porco Zeus. Qua ci stiamo per prendere tantissimo male. Tanto male. Tanto male. No, ci ha fatto giù la torre. Ai miei tempi le torre non si facevano giù così facilmente. Ci volevano impervi e impervi. Ci volevano dei mercenari per buttare giù le torre. Invece qua ci vuole un cazzo. Ci vuole un pecca. Forse dover utilizzare qualcosa di più elaborato. Come un principe al posto del cavaliere. Stiamo alzando di brutto il costo del mazzo. Per questo direi che possiamo togliere o i miei avi o i maiali del re. E sostituire... Sostituire i maiali del re, vai. E sostituirli con qualcosa che ai miei tempi era molto, ma molto forte. Il... La principessa. Il fantasmino fa palesemente pena sia ai miei tempi sia adesso. E siamo pronti con l'ultima battaglia. Vediamo se questa la riusciamo a vincere oppure se faremo schifo esattamente come la scorsa martita. Lanciamo la principessa che dall'alto della sua potenza dovrà contrastare il mondo intero. E in complesso ci contrasta il buco del culo qua, il domatore. Forza boia! Dimostra la tua potenza. A parte che scusate i pochi... Non ho mai visto un boia nella mia vita lanciare l'ascia invece che utilizzarla per decapitare. Cioè io quando decapiti non è che la lanci, sei lì a fianco. Orsù queste sono frivolezze. Perché adesso il nostro principe ci darà gloria. No, in realtà fa pena esattamente come l'altra carta, però. Anzi, il principe è una delle carte più counterabili mai viste nella storia. La mia principessa però è più forte e muore in tempo zero per colpa di due feccidi in merda. Ma non disperliamoci, sovvia! Il cimitero risolverà la situazione! O forse farà palesemente pena esattamente come ho fatto tutto il tempo. Scopriremo soltanto vivendo. Cannone tattico. Come? Con che pretezza ha riuscito a far colpire il domatore di maiali nonostante fosse palesemente a fianco al cannone? E quindi avrebbe dovuto colpire quello in teoria perché i domatori di cinghiali fin dai tempi più remoti colpiscono le difese, cioè gli edifici, e non vanno direttamente a torre. Dimmi che la ce la fa danno, sei. Principessa subito che dà un colpo ma non è abbastanza. Subito il principe e buttiamogli giù la torre. Non è vero perché il principe, a differenza del domatore di cinghiali, va subito dal gigante schereto e ci fa un male cancaro. Cannone subito di fronte. E adesso il domatore si è dovuto fermare per forza. Adesso Zeus colpirà la torre con la sua ira. Non è vero, non ha fatto un cazzo. Arcieri. E vediamo di colpire di nuovo. Oh porco Zeus, qua siamo una cacca fino al collo. Se Zeus dà un altro colpo, e Zeus ha dato un altro colpo. Non abbiamo fatto niente ma non importa perché... Zeus in fondo mi ha detto di giocare, non di vincere. Anche perché se mi avesse detto di vincere gli avrei potuto dire... Ciccia bello. Nooo, schereto gigante affianca la torre, amore. Ma non importa. Noi ci siamo comunque fatti valere come lo schifo. Mi ha fatto giù lo stegone elettrico con... Fare buoni preventing. Io dico soltanto che questo ha un segno che gli dai non erano dalla mia parte. In ogni caso io direi che posso tornarmene al mio tempo a raccogliere patate e a meditare sul senso della vita. Anche perché non so fare un cazzo d'altro appena visto. Quindi io vi saluto. Ora è la vola e noi ci vediamo mai più spero. Perché io vorrei tornare al mio tempo a raccogliere patate. Oh. Ma cosa è successo qua? È un casino. Ma che fosse bastato in antico romano.